Ambiti territoriali di caccia. Questa volta siamo a parlare dei bilanci che appunto allo stato attuale sono una condizione di illegittimità a seguito della riforma del 2014 con la quale sono stati accorpati e sono a questo punto oggetto di una lettera da parte del Ministero dell'Ambiente nei confronti del Governo affinché venissero impugnati insieme a tutte le varie proposte di legge con cui la Regione Toscana ha inutilmente tentato di rimediare al pasticcio che risale a due anni fa. L'interrogazione è fondamentale perché bisogna capire da prima che venissero accorpati ad adesso cosa è stato e qual è la situazione dei bilanci, vogliamo maggiore chiarezza di come vengono impiegati questi soldi specialmente per quanto riguarda il ristoro dei danni all'agricoltura e tutti gli ambiti di tutela dell'habitat che sono necessari specialmente per quanto riguarda il settore e l'argomento.